Più tardi si manifestano come amore o d'odio. Come si vede che Dio vige anche nel regno minerale? Commento. Basta osservare come il ferro si muove per incontrare la calamita o come un altro metallo si muove per fuggirla. Già da questi vagiti primordiali del mondo minerale, che più tardi si manifestano come amore o d'odio, chi è pronto si può accorgere di come l'assoluto sia presente ovunque.